La vita di Papa Celestino V, protagonista di Freedom, è infatti l'Abruzzo e i luoghi di Papa Celestino, tra cui l'Abbazia e l'Eremo del Morrone, sono protagonisti questa sera a Freedom Oltre il Confine, che andrà in onda su Rete 4 alle 21.30. Una macchina di produzione imponente per realizzare immagini inedite e meravigliose dell'Abruzzo, riprese e scorce di natura di incredibile bellezza, curate in ogni dettaglio, per ricostruire la vita di Papa Celestino da diversi punti di vista. La trasmissione Freedom, Oltre il Confine, è il nuovo programma condotto da Roberto Giacobbo, che è tornato dalla scorsa settimana con otto nuove puntate, e Freedom è il vero fiore all'occhiello della nuova Rete 4. I dati d'ascolto lo confermano. La scorsa settimana lo share è stato del 5% medio, raggiungendo anche picchi del 7,3% per la vita di Papa Celestino V, un totale di un milione e mezzo di spettatori che hanno preferito le avventure di Roberto Giacobbo. Un lungo viaggio, quello della truppa di Freedom, che passando per l'Egitto senza trascurare la meravigliosa penisola ad Italia, ha realizzato in Abruzzo diversi servizi. La seconda parte della storia di Pietro da Morrone, questa sera, sul Rete 4, l'uomo che scelse di non essere Papa, cioè di non essere l'uomo più potente del suo mondo. E la presentazione della nuova serie di Freedom c'è stata anche al Comune dell'Aquila nei giorni scorsi. La prima parte del servizio si è conclusa la scorsa settimana alla Basilica di Colle Maggio e da lì si riparte, alla scoperta della vita e delle opere di quest'uomo davvero enigmatico, la cui storia lascia aperte ancora tante domande. Alla realizzazione della puntata di Freedom, le cui ricostruzioni storiche sono state realizzate all'Aquila e a San Pio delle Camere, hanno collaborato Evo Costanzi, Giacomo Marchini, che ha interpretato Celestino V, Sandro Righi e Michele Biallo, senza dimenticare l'interpretazione di Cristian Cedia nei panni di Leonardo da Vinci e Manuela Micucci nei panni di Gesù nell'Ultima Cena. Le tecnologie utilizzate nella produzione di Freedom portano a un prodotto originale stimolante, spettacolare, ricco di trasparenza e colori, colmo di punti di vista nuovi ed originali. Roberto Giacobbo, nel presentare la nuova Freedom, ha parlato del suo legame particolare con l'Aquila e l'Abruzzo. Freedom, infatti, parla molto aquilano, responsabile di produzione è Sonia Fiucci. Giacobbo ha definito l'Aquila una piccola cinecittà. Sì, perché mi piace, mi piace la gente, mi piacciono i posti, poi uno si affeziona a dei luoghi che gli assomigliano, no? E quindi io sono, come dire, ho scelto l'Abruzzo tra le mie passioni e lo racconto quando posso e lavoro con l'Abruzzo quando ricostruisco qualunque cosa, dalla Madonna di Guadalupe a Bernini a Celestino V, ma quello era naturale, e cerco per quanto possibile, per le mie possibilità, io faccio solo televisione, di raccontare un Abruzzo positivo. Grazie. Grazie. Grazie.